Sono Alfonso Celotto, sono il presidente di Aeroporti 2030, sono molto contento di questa opportunità che mi dà la Green Week organizzata dalla Fondazione Simbola. Aeroporti sostenibili, può sembrare uno simbolo mettere accanto queste due parole, una totale contraddizione, e invece noi come associazione stiamo cercando di portare avanti proprio quest'idea, che gli aeroporti possono dare uno sviluppo sostenibile. Questo oggi è indispensabile perché la tutela dell'ambiente, i diritti delle generazioni future, la sostenibilità sono un quadro che devono portare anche il sistema aeroportuale a una diversa visione, in maniera che anche gli aeroporti siano Green. Come? Con l'utilizzo di nuovi carburanti, con l'utilizzo di nuovi aerei, con un maggior utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi carburanti dell'elettrico a terra, quindi serve una grande alleanza di settore, perché tutti gli operatori del sistema aeroportuale devono contribuire a fare questo, a rendere sostenibili gli aeroporti. Nella nostra associazione abbiamo il gruppo sale, quindi Venezia e gli altri aeroporti del nord-est, e ADR, gli aeroporti di Roma. Sono due dei maggiori gestori aeroportuali che hanno investito proprio su questo, sulla innovazione e sostenibilità, e addirittura nell'ultimo quinquennio miliardi di euro su questo settore. Quindi, per noi come associazione, siamo davvero di fronte ad obiettivi importanti, vogliamo contribuire con tutto il modello e tutto il sistema per rendere gli aeroporti più sostenibili. Tematiche internazionali e internazionali per ovvie ragioni, tanto più se si parla di aeroporti. Si svolge in una città, Parma, che è una città molto attenta ai temi della sostenibilità. Sappiamo che in città c'è anche un dibattito sull'allargamento delle piste, dell'aeroporto locale e così via, ma proprio per evitare di portare questo dibattito su una dimensione locale e cercare anche di aiutare la comunità di questa bellissima città che ci ospita e alla quale da Veneto sono anche ormai affezionato. Abbiamo scelto di fare una discussione con grandi, piccoli e medi player del settore aeroportuale in maniera tale da offrire una prospettiva che sia ampia. Stiamo cominciando con qualche minuto di ritardo e i tempi sono stretti gli ospiti autorevoli, per cui ringrazio Marco Panara che conduce e presenterà gli ospiti e ruberà due minuti a testa per recuperare gli otto minuti di ritardo. Ce la faremo. Grazie Filiberto, buongiorno, benvenuti a tutti. Il tema è delicato perché il trasporto aereo è una componente molto rilevante del problema delle emissioni climalteranti. i voli, gli aerei emettono naturalmente CO2 e è anche uno dei settori più difficili, nel senso che il passaggio per quanto riguarda gli aerei a energie rinnovabili è probabilmente più lento, più lungo, più complicato di quanto non lo sia per i mezzi a terra. Però il trasporto aereo, c'è la parte che vola naturalmente e poi ci sono queste complesse macchine che sono i sistemi aeroportuali, che sono delle macchine molto articolate, molto complesse che movimentano milioni di persone e quantità molto importanti di merci e sono esse stesse in quanto attività che impattano l'ambiente. Lo impattano da tanti punti di vista, lo impattano dal punto di vista ambientale, quindi per quanto riguarda le emissioni, l'uso dell'energia, ma anche per quanto riguarda il territorio. Sono molto grandi, gli aeroporti sono delle strutture, delle infrastrutture molto grandi che hanno un sistema che influenza in qualche modo con le comunità locali che li circondano. Diciamo che sono presenze ingombranti da un punto di vista fisico e però sono anche delle presenze arricchenti perché la presenza di un aeroporto è sicuramente una ragione di competitività di quel territorio, di attrattività di quel territorio, di connettività fondamentale di quel territorio e quindi di apertura al mondo esterno. All'interno degli aeroporti si gestiscono dei flussi complessi di persone e di merci, aeroporti come quello di Roma, quello di Bergamo, milioni di Venezia, milioni di passeggeri l'anno lo attraversano e consumano e sono dei soggetti che influenzano tutto il processo gestionale ma anche il processo dei consumi di energia, di acqua, la produzione di rifiuti e quindi la gestione di queste macchine complesse e così influenti da tanti punti di vista sulla realtà e sull'economia e sulla vita sociale di questi territori è un aspetto determinante. Se questi aeroporti sono gestiti in maniera bene, se sono gestiti in maniera attenta all'ambiente, se sono gestiti in maniera efficiente, tutto questo ha delle ricadute positive sull'ambiente e sulla collettività. Oggi abbiamo la possibilità di discutere, di ragionare su questi aspetti con quattro persone di grande esperienza che rappresentano qui quattro aeroporti o gruppi aeroportuali con caratteristiche diverse e dimensioni diverse e quindi attraverso le loro esperienze, la loro progettualità, la loro capacità di innovazione potremo capire la direzione che sta prendendo l'evoluzione degli aeroporti in relazione a tanti aspetti ma in particolare a quello della sostenibilità. Io comincerei con Marco Consalvo che è qui alla mia sinistra e che è l'amministratore delegato dell'aeroporto di Trieste, che è il più piccolo di quelli di quali parleremo oggi, ma è un aeroporto interessante, molto interessante perché è il più recentemente privatizzato, quindi ha una gestione privata da tre anni, quindi recentissimamente e anche perché ha avviato una serie di iniziative, di progetti molto interessanti e quindi direi a Marco di cominciare lui questo nostro incontro. Grazie al dottor Panara. Sì, l'aeroporto di Trieste è un piccolo aeroporto regionale del Friuli-Venezia-Giulia che il cui azionista storico è sempre stata la regione, Friuli-Venezia-Giulia e nel 2019 a seguito di un percorso di privatizzazione è entrato nel gruppo F2I o nel fondo F2I che è uno dei più grossi fondi, anzi è forse il più grosso fondo in termini di gestori aeroportuali che partecipano in questo fondo. Nel 2019 c'è stata la privatizzazione, oggi l'assetto societario è 55% F2I, 45% regione Friuli-Venezia-Giulia. E' chiaro che la vocazione è regionale, è una regione che ha un milione e due di residenti, una parte diciamo Pordenone e anche più vicina a Venezia o quantomeno ha una storia più vicina a Venezia, ma ha anche delle aree intorno, aree limitrofe, al confine con la Slovenia e l'Austria, la Carinzia. Quindi ha un bacino di utenza piccolo ma potenzialmente sviluppabile anche verso le aree che dicevo prima, della Slovenia e della Carinzia. Cosa in relazione al tema di oggi, emissioni clima alteranti. Prendo spunto da quello che diceva il dottor Panara prima, gli aeromobili, è chiaro che i due soggetti principali sono le compagnie aeree e gli aeroporti. Le compagnie aeree per fare questa evoluzione tecnologica che in linea teorica sappiamo un po' tutti che Boeing sta studiando già da diverso tempo anche aeromobili a idrogeno. Questo non sembrerebbe un percorso lungo, il problema è economico perché chiaramente tutti gli aeromobili che hanno una vita media di circa 30 anni e non è che si prendono e si cancellano, quindi hanno bisogno di un periodo di ammortamento e quindi il sistema difficilmente può assorbire un passaggio netto a questa tipologia di aeromobili. In questo intermedio si stanno facendo delle cose, tra cui il SAF, quindi questo carburante biologico che ha un livello di emissioni estremamente più basso rispetto al fuel normale delle compagnie aeree. Anche questo, devo dire, avendo un costo tra le 4 e le 8 volte superiore al fuel normale, e considerando oggi il costo del fuel mi sembra un transitorio abbastanza debole, nel senso che sicuramente oggi chi usa questo carburante lo può fare in quantità molto, molto modeste. Difficilmente il settore, le compagnie aeree possono utilizzarlo in maniera massiva, questo tipo di carburante. Gli aeroporti, cosa possono fare sulle emissioni climaalteranti? Diciamo che in un aeroporto, come introdotto prima, ma anche il nostro aeroporto, ovviamente ancora di più, gli aeroporti medi, fino ad arrivare a Fiumicino, sono delle piccole città. Fiumicino, anzi, è una grande città, ma lo è anche Bergamo e lo è anche Venezia. Ci sono tanti soggetti che operano in questi aeroporti. Il gestore aeroportuale tendenzialmente coordina una serie di operatori privati, si chiamano Handler, ma anche delle subconcessioni con soggetti che fanno attività commerciale all'interno dell'aeroporto. Quindi vi dico questo perché è un primo step che tutti gli aeroporti su cui stanno ragionando e quello di trasformare le emissioni provenienti da fonti fossili in fonti rinnovabili. Questa trasformazione, ovviamente in questo primo step, si immagina di coprire il fabbisogno energetico-elettrico, trasformando questo fabbisogno energetico-elettrico da fonte fossile a fonte rinnovabile. Però appunto ci sono negli aeroporti tanti soggetti che operano, quindi non è solo il gestore aeroportuale con i suoi consumi, ci sono anche i consumi di tutti gli operatori. Una proporzione tendenzialmente è molto media, poi ci sono aeroporti che si differenziano tra di loro e che considerando solo il gestore, cioè il consumo di un aeroporto in termini energetici, diciamo in termini elettrici, raddoppia se si somma a quelli del gestore tutti gli operatori che operano in aeroporto, dagli Endra, dagli Enti di Stato, a tutto il mondo che circola all'interno dell'aeroporto. Poi c'è un terzo step, che è quello tendenzialmente finale, e i passeggeri, cioè come arrivano all'aeroporto e gli aeroporti stanno sempre più trasformandosi in punti multimodali con gli accessi alle rete ferroviarie e con anche i sistemi bus che stanno evolvendo, o quantomeno c'è una previsione di trasformazione a bus a idrogeno. Questi sono i tre step in cui gli aeroporti si stanno muovendo, chi più e chi meno. Trieste ha un progetto estremamente interessante, al di là che è collegata dal 2018 alla rete ferroviaria con una stazione che si chiama Trieste Airport. Il terminal dell'aeroporto è collegato a questa stazione da un bridge, da una passerella con dei tappeti mobili sopraelevata, che scavalca una statale, e quindi questo è un investimento davvero importante sia per l'ampliamento della crecementaria ma soprattutto in termini green. Per il primo step che raccontavo prima, noi siamo in fase di progettazione esecutiva di un impianto fotovoltaico da 3 megawatt che per le nostre dimensioni è tanto. considerate che noi abbiamo un consumo di energia elettrica di circa 2,5 megawatt ora anno, gigawatt scusate, ora anno, quindi una potenza installata di 3 megawatt come potenza installata che sviluppa, produce circa 3,2 gigawatt anno, significherebbe potenzialmente la trasformazione di tutta l'energia, il fabbisogno energetico elettrico da fonti fossili a fonti rinnovabili. In realtà non riusciamo a fare questo 100%, noi da questo impianto con, tra l'altro, sono dei pannelli fotovoltaici e a cui verranno installati anche delle batterie, un sistema di batterie, quindi di stoccaggio di energia perché il problema grosso è lo stoccaggio dell'energia elettrica che ci consentirà di la produzione sarà di 3,2 gigawatt ora anno e riusciremo a utilizzarne 2 gigawatt, 2,1 gigawatt all'anno, il resto lo metteremo sostanzialmente in rete. Però questo sarà come direi uno step lo realizzeremo circa fra un anno la previsione ad aprile del 2023 questo ci consenterà una trasformazione dei nostri consumi energetici da fossile a rinnovabili quindi da fotovoltaico per il 76%. altra cosa che segnalo e spero di essere rimasto nei termini tre minuti sono le comunità energetiche lo segnalo perché ovviamente con la crisi in Ucraina il problema energetico si è esploso per tutti e il governo attraverso dei decreti c'è un'evoluzione di queste comunità energetiche il DL il decreto legge 50 del 17 maggio del 2000 di quest'anno è in fase di conversione quindi a 60 giorni per la conversione devo dire noi abbiamo proposto poi con assi aeroporti non so se Emilio è arrivato in direttivo questo c'è una previsione in articolo 9 che le autorità portuali come come militari la possono costituire i sedini ovviamente delle aree militari possono costituire delle comunità energetiche con le deroghe anche alla potenza installata oggi è la legge che diciamo gli ultimi decreti prevedevano fino a un megawatt di potenza installata le autorità portuali e come dicevo prima possono derogare adesso per similitudine ma anche per ragione degli spazi che gli aeroporti hanno non tutti ma tendenzialmente tutti ovviamente fuori dalle fasce di sicurezza aeronautiche e di rispetto ovviamente delle non interferenze con le radioassistenze gli aeroporti hanno degli spazi per installare pannelli fotovoltaici quindi c'è un emendamento nel processo di conversione questo articolo 9 che spero passi in commissione nel bilancio alla camera perché consentirebbe che anche i gestori aeroportuali possano costituire delle comunità energetiche e questo per la trasformazione green dagli aeroporti sarebbe una grossa opportunità ma lo è anche nel rapporto prima quello che diceva il dottor Panamara gli aeroporti vivono nei territori anche con le comunità limitrofe con le comunità locali perché la percezione poi degli aeroporti come degli inquinatori nel tempo è migliorata ma in ogni caso in alcune circostanze è ancora abbastanza forte grazie grazie Marco questa questa cosa delle comunità energetiche mi sembra molto interessante speriamo che questo emendamento passi che la lobby di aeroporti sia efficace in questo caso perché oltre a appunto gli aeroporti hanno degli spazi immensi che possono essere destinati alla produzione di energia pulita ma effettivamente può essere uno strumento di rapporto di relazione di miglioramento di relazioni con il territorio molto significativo Enrico Bellingardi gestisce l'aeroporto di Bergamo l'aeroporto di Bergamo credo sia il terzo in Italia il terzo in Italia per traffico di passeggeri un aeroporto molto importante primo forse nel traffico di low cost Ryanair ha il suo hub uno dei suoi hub a Bergamo quindi un'esperienza particolarmente significativa e quindi chiederei adesso ad Emilio di presentarci un attimo le strategie di questo aeroporto sulla strada della sostenibilità buongiorno a tutti sono Emilio Bellingardi direttore generale dell'aeroporto di Bergamo di Aserio non vengo dal mondo della consulenza però ho chiesto di farmi aiutare da quattro slide perché voglio essere un attimino preciso chiedo di passare alla seconda allora dicevamo prima diceva il nostro moderatore Bergamo di Aserio è il terzo aeroporto in Italia per traffico gestito sono i dati chiaramente del 2019 speriamo che a chiusura di quest'anno con la forte ripresa che abbiamo il dato venga confermato eccomi non chiedo la regia se magari può passare alla seconda slide l'aeroporto di Bergamo di Aserio se facciamo un'analisi e proviamo a declinarlo su quello che è il valore sul territorio vi do qualche numero per esempio rappresenta l'8% del PIL della provincia di Bergamo i posti di lavoro diretti generati dall'aeroporto sono più di 8.000 i rapporti di lavoro indiretti cioè quelli che per conseguenza si generano in ragione della presenza dell'aeroporto sono circa 17.300 scusate chi aziona le slide può far partire la seconda slide per favore grazie per dare sempre qualche numero che secondo me è importante se utilizziamo il criterio di che cosa ha permesso al territorio dell'aeroporto vi do questo numero per esempio l'aeroporto di Bergamo è il secondo in Italia per permettere di raggiungere a livello europeo una massa importante di PIL generata dal continente questo è un elemento determinante per la come dire l'attrattività e l'importanza dell'aeroporto in relazione al proprio territorio dicevamo prima è la base più importante continentale perché al di là di Dublino e Londra Stansted all'interno del continente europeo è la base più importante di Ryanair poi sul termine low cost non voglio dilungarmi perché ormai è diventata talmente elastica questa definizione anche perché per chi in questi giorni prova ad accedere ad alcune tariffe si rende conto che forse alcune compagnie legacy stanno facendo politiche tariffarie forse più convenienti di alcune compagnie low cost però detto questo nell'aeroporto di Bergamo riaserio operano 21 compagnie aeree 145 sono le destinazioni e 37 sono le nazioni servite questo è un elemento che ha determinato per quanto riguarda il suo network europeo due elementi di vantaggio uno che ha contribuito negli anni a diventare un partner importantissimo per esempio del progetto Erasmus e quindi rendendo l'università di Bergamo molto più attrattiva e molto più importante per quanto riguarda l'aggressività degli stranieri ma soprattutto ha permesso una ripresa veloce dopo la crisi legata alla pandemia abbiamo imparato durante la crisi economica di questi due anni quanto le catene logistiche quanto le catene di collegamento lunghe sul territorio mondiale sono entrate in crisi e quanto io dico purtroppo abbiamo dovuto come dire un po' racchiuderci vicino all'interno del continente europeo per avere garanzia di riuscire a non avere interruzioni che abbiamo visto quali ricaduti hanno avuto sulle forniture logistiche sull'aumento dei prezzi e su tutto il resto questo ha avuto come vantaggio per un aeroporto che ha un network sostanzialmente europeo come il nostro di avere un ritmo di ripresa che ormai ha completamente recuperato i dati del 2019 passerei a due slide dopo se è possibile sempre per parlare dell'efficienza dell'aeroporto è chiaro che abbiamo una situazione di contesto urbano abbastanza complesso però questo ha come dire anche un lato opposto della medaglia per quanto riguarda il consumo di territorio noi siamo all'aeroporto in Italia credo che per metro quadro ha la massima e la più alta efficienza in assoluto vorrei citare un altro dato su questo tema si parla spesso di alternativa agli aeroporti per quanto riguarda le emissioni con l'alta velocità io non vi dico numeri vi chiedo solo di fare qualche ricerca provate a immaginare quanto territorio è stato utilizzato in Italia per creare una linea di alta velocità considerate che un aeroporto con due chilometri e 800 metri di pista vi porta dall'altra parte del mondo questo insieme ai numeri reali su quanto Cuba all'interno delle emissioni legate al trasporto il sistema del trasporto aereo è un'altra narrazione falsa sul quale anche qua io non vi do numeri siete ragazzi giovani avete una capacità di utilizzo di ricerca di sistemi importanti andate a fare una ricerca accurata e scoprirete quanto effettivamente il trasporto aereo Cuba in relazione al totale delle emissioni legate ai trasporti l'aeroporto oltretutto ha creato un'efficienza importante per quanto riguarda i tempi di sosta a terra dagli aeromobili che sono comunque anch'essi un elemento determinante sull'impatto dell'ambiente tempi di tornerà un veloci servizi legati alla possibilità di girare come si dice in termini tecnico una macchina in 35 minuti determina chiaramente una riduzione importante di emissioni anche dei mezzi di rampa dei mezzi di assistenza aeromobili che sono anch'essi un elemento sul quale stiamo lavorando in partnership con le aziende produttrici dei mezzi di assistenza a terra per una riconversione completa ma anche su progetti che proprio in questi giorni stiamo iniziando a guardare con attenzione per capire come è possibile anche rivedere completamente la modalità di ricarica di questi mezzi e da dove e da quali tipo di fonti energetiche attingere per la ricarica di questi mezzi in più abbiamo svolto il nostro dovere il nostro dovere fino in fondo che non è stato facile vi assicuro in questo bienio di pandemia lavorare su due elementi di continuità importanti uno la conservazione delle nostre forze e dei nostri collaboratori lavorare in aeroporto richiede certificazioni complesse che se si perdono sono difficili da recuperare quindi è chiaro che abbiamo fatto investimenti anche in termini di conservazione di posti di lavoro è vero che c'era lo strumento della cassa integrazione ma la si poteva modulare cioè provare a fare anche un investimento quando a febbraio l'aeroporto ha cominciato a riprendere ma probabilmente le risorse non erano saturate abbiamo deciso non solo di farli orientare tutti ma di riprendere una formazione importante su come riprendere confidenza con le attività aeroportuali questo tutto sommato devo dire ci ha premiato perché oggi leggete su tutti i giornali quale difficoltà si dibattono gli aeroporti in Europa questo è dovuto sostanzialmente a due cose primo perché fuori dall'Italia non esistono alcuni istituti come la cassa integrazione quindi i gestori importanti europei si sono trovati a un certo punto costretti a perdere alcune risorse noi invece abbiamo avuto questo strumento anche se ripeto l'abbiamo usato molto poco l'altra cosa che abbiamo fatto con una certa difficoltà nel convincere i miei azionisti è continuare negli investimenti io lavoro da un po' di anni in questo settore credo ormai da 42 43 e quindi di crisi improvvisi ne ho viste molte nel trasporto aereo ma tutte le volte si è verificata la stessa cosa appena finito il momento di crisi la domanda è cresciuta in modo impetuoso ci abbiamo scommesso abbiamo avuto coraggio oggi che siamo sostanzialmente agli stessi livelli del 2019 con qualche complessità maggiore perché vengono richiesti più spazi c'è un network che è una diversificazione di vettori importanti e quindi è più difficile ottimizzare spazi gate stand di sosta degli aeromobili il fatto di aver fatto gli investimenti ci ha fatto trovare pronto a questo passerei alla slide dopo che è la penultima così non vi annoio più di tanto il master plan 2030 che è sostanzialmente lo strumento urbanistico in cui gli aeroporti dichiarano come intendono proseguire nel loro lavoro brevemente io faccio un'analisi di una previsione del mio traffico vado a verificare quali sono le infrastrutture che mi servono per fare in modo che questo traffico venga assistito faccio una verifica finanziaria che io riesca con il business che vado a generare a sostenere questi investimenti porto all'ente regolatore Kenac a questo piano lui lo guarda e mi dice sì per quello che il traffico che tu vuoi gestire provate a immaginare con qualche difficoltà in un sistema come il nostro che è muta ogni 20 secondi quanto è difficile portare uno strumento di previsione a 15 anni l'ente regolatore ti dice sì ok mi va bene dopodiché tu passi chiaramente a quello che è il vaglio della valutazione di impatto ambientale la quale commissione non credo si sia preso il suo tempo da 5 anni sta aspettando di raccontarci se le compensazioni e tutte le attività che noi abbiamo inserito in questo master plan che vi assicuro sono importanti il master plan 2015 2015 stiamo ancora aspettando 2030 contiene pochissime volumetrie contiene soprattutto compensazioni cioè area verde che verranno utilizzate per rendere come dire l'aeroporto più coerente e più accettabile dal suo contesto iniziative come l'insediamento di allevamenti di api abbiamo lasciato in un territorio in un terreno che abbiamo acquisito a nord del sedime un coltivatore di api che permette di continuare la sua attività ma poi abbiamo anche fatto qualcosa per rendere l'aeroporto più accessibile e più performante sotto l'aspetto energetico intanto l'accessibilità sul ferro con salvo l'accessibilità l'intermodalità è diventato un elemento indispensabile per gli aeroporti per i rinnovabili abbiamo una solar farm a servizio dello scalo che al termine delle sue installazioni porterà un risparmio di circa 500 tonnellate all'anno di CO2 i mezzi elettrici come vi dicevo prima abbiamo incentivato molto tutti gli operatori sullo scalo ad operare e a convertire la propria frotta con mezzi elettrici infine la pista ciclabile il nostro aeroporto è l'unico che ha una pista ciclabile che gira tutto intorno all'anello dell'aeroporto e ha l'obiettivo poi di andare a collegarsi con quelle che sono le ciclabili che sono in progetto per arrivare addirittura in Europa tra l'altro il nostro aeroporto è stato premiato l'anno scorso come bike friendly cosa abbiamo fatto abbiamo oltretutto nella chiedo la slide successiva nella famosa mobility plaza che noi l'abbiamo chiamata così con chi ci ha seguito nella progettazione del gruppo dello scalo abbiamo inserito punti di interconnessione con tutti i mezzi provate a immaginare ci sono 5 operatori autobus su gomma che operano sullo scalo e che vengono da tutte le destinazioni italiane e europee arrivano facendo fideraggio sui voli e dai voli arrivano passeggeri che fanno fideraggio per gli autobus non solo ci sarà la stazione ferroviaria ma infine abbiamo creato delle infrastrutture all'interno dell'aeroporto per rendere possibile al traffico generato da chi viaggia per poi circolare in bicicletta tutti i servizi necessari ci saranno delle docce c'è un servizio di assistenza per le proprie biciclette c'è la possibilità di lasciare in deposito le biciclette per poter dedicarsi al turismo locale o anche europeo per poi ritornare e ripartire per tornare a casa con l'aereo insomma che cosa abbiamo fatto sostanzialmente abbiamo cercato di creare come dicevamo prima intorno a quella che è la piattaforma intermodale per eccellenza io sono convinto che è l'aeroporto perché l'aeroporto oltre agli aerei attira verso di sé tutte le altre forme di trasporto quindi è davvero la piattaforma di termodale per eccellenza la possibilità di limitare al minimo gli spostamenti per poter raggiungere lunghe distanze e soprattutto stiamo lavorando per far sì che tutti gli attori che utilizzano i mezzi di trasporto per arrivare uno non deve inibirsi nel suo pensiero io vedo due comportamenti che mi lasciano un po' strano di uno vi ho già parlato vi chiedo davvero con insistenza andate a vedere quanto cubano le emissioni del trasporto aereo rispetto al totale delle emissioni generate dai sistemi di trasporto nel mondo io non capisco perché questa narrazione è così aggressiva nei confronti degli aeroporti l'altra cosa pur avendovi detto e spiegato con chiarezza che inseguiamo tutti i progetti che possano portare un domani ad avere fonti alternative e limitare al minimo le emissioni io vedo nel nostro mondo una stranezza una stranezza che può portarci a perdere un po' il controllo rispetto al business che noi gestiamo io credo che nella vita nel mondo di ognuno di noi ognuno debba fare bene il proprio mestiere io e i miei colleghi siamo costantemente negli ultimi mesi impegnati a parlare di nuovi motori per gli aerei di nuove forme energetiche non parliamo più del nostro lavoro come se il nostro lavoro le cose che vi ho detto all'inizio cosa ha voluto dire all'accessibilità dello scalo cosa ha voluto dire per il sistema Erasmus per i ragazzi fosse un qualcosa di cui dobbiamo vergognarci io credo che dobbiamo smettere di parlare di motori alternativi di cui deve occuparsi Boeing ed Airbus e di fonti energetiche per i motori di cui deve occuparsi qualcun altro il nostro compito è creare all'interno dei sedimi tutte le strutture per accogliere queste forme energetiche alternative ma il nostro mestiere principale è erogare servizi puntuali fare le cose fatte bene ed essere da stimolo per dare un servizio corretto al territorio al paese e a tutta l'Europa se così non facciamo secondo me vertiamo di vista fortemente quello che è il nostro lavoro e poi il rischio è che le responsabilità non sono più di nessuno perché tutti parlano molto bene del lavoro degli altri e non del proprio grazie grazie Emilio in effetti l'efficientamento gestionale di una macchina complessa come un aeroporto è in sé come dire energy saving è in sé migliorativo delle prestazioni complessive e quindi anche di quelle ambientali di consumi energetici di consumi di acqua della gestione dei rifiuti quindi questo vale per qualsiasi attività in particolare per un'attività così complessa come la macchina aeroportuale una domanda scusa Emilio tu sei diciamo quello con più anzianità di servizio forse qui il sistema aeroportuale italiano nella tua proiezione diciamo secondo tu dici ogni crisi poi abbiamo avuto un aumento di traffico molto rilevante il sistema aeroportuale italiano nella sua configurazione attuale è sufficiente a sostenere il traffico futuro o no? una breve risposta sì in termini quantitativi no in termini qualitativi e di sistema quindi vuol dire che il numero di aeroporti è sufficiente ma devono essere devono essere ottimizzati è necessario che l'intermodalità raggiunga tutti gli aeroporti è necessario che si faccia qualcosa di serio e di importante per il traffico del nord Italia e per il traffico merci noi siamo un paese manifatturiero importiamo trasformiamo ed esportiamo noi siamo il paese che ha la più bassa accessibilità cargo in tutto il continente europeo grazie questo poi chiederò a Davide Bassano perché loro gestiscono un aeroporto cargo quello di chiari che progetti ci sono adesso passiamo a Roma Roma è il più grande aeroporto italiano tra l'altro un aeroporto che negli ultimi anni è stato molto premiato per le sue performance ambientali e anche per la gestione del traffico nel periodo covid perché è stato considerato del migliore aeroporto per la sicurezza nel periodo pandemico ma è anche un aeroporto che ha fatto dei notevoli importanti interventi infrastrutturali e quindi io volevo chiedere a Andrea Maria Giordano che è il responsabile del project manager officer cioè quello che si occupa del futuro quello che gestisce i progetti dell'aeroporto che li avvia e li porta a compimento per gli investimenti degli aeroporti di Roma ecco questo aeroporto grande è una vera città credo che ci abbia quasi 50 milioni di passeggeri l'anno 43 milioni nel 2019 43 milioni di passeggeri l'anno utilizzano questo aeroporto beh la strategia di sostenibilità dell'aeroporto questa è la prima cosa che ci interesserebbe capire che cosa ha fatto e cosa sta facendo come si è meritato questi questi riconoscimenti la seconda cosa nell'ampliamento infrastrutturale l'argomento sostenibilità come è stato interpretato cioè questi nuovi manufatti in che logica sono stati progettati tenendo conto sono stati utilizzati materiali diversi cioè in che senso sono più up to date dal punto di vista della sostenibilità questi sono i due temi che mi interesserebbe sentire e poi naturalmente il tema dell'intermodalità e delle partnership che un aeroporto di due dimensioni ha con altri operatori importanti ok grazie innanzitutto di avermi invitato in questo consesso veramente importante diciamo che i driver di sostenibilità sul quale il nostro aeroporto sta puntando sono essenzialmente legati a uno sviluppo sostenibile inteso anche come pianificazione e quindi sviluppo delle infrastrutture secondo degli ulteriori driver che sono lo sviluppo brownfield ovvero uno sviluppo su se stesso dell'aeroporto conseguentemente nel nostro piano di sviluppo che adesso è ancora una parte lo stiamo realizzando una parte in corso di istruttoria stiamo prevedendo tutte le infrastrutture che essenzialmente si sviluppano su loro stesse ci siamo chiesti perché dobbiamo andare all'esterno proviamo a vedere se riusciamo ad andare in continuità con le attuali aerostazioni e cerchiamo di capire se diciamo ci possono essere degli elementi che in qualche modo rendano sostenibile anche il nostro sviluppo in questo senso quindi abbiamo siamo andati a partire appunto da trovare quelle che sono le infrastrutture che effettivamente un aeroporto si rigenera su se stesso quindi anche nell'innovazione e nelle continuità ha degli aspetti che sono da rigenerare e quindi da rivedere quindi il nostro piano di sviluppo si baserà e si sta basando su demolizioni e quindi le demolizioni stesse che poi porteranno allo sviluppo delle infrastrutture che si costruiscono dove andiamo a demolire degli edifici portano di per sé diciamo un riutilizzo dei materiali e conseguentemente anche una progettazione che partendo da questo mira a una strategia di progettazione che sono che è legata alla certificazione e alla certificazione protocolli ambientali che sono i più diciamo i più riconosciuti questo perché la nostra strategia di sviluppo si basa sulla progettazione e realizzazione di infrastrutture certificate LEED ovvero leadership and environment and design che sono infrastrutture che in maniera olistica si dà la progettazione alla gestione prevedono il riutilizzo di materiali appunto derivanti da demolizione il ricorso a risorse rinnovabili all'interno della stessa infrastruttura cosa che abbiamo fatto il 18 maggio abbiamo aperto un nuovo molo d'imbarco per circa 6 milioni di passeggeri che proprio segue quella linea di principio quindi il green building parliamo di green building e ovviamente anche nella gestione e nell'utilizzo nell'impiantistica si diciamo si progetta e si realizza pensando al riutilizzo continuo sia dei fluidi piuttosto che dell'elettricità e di tutti gli elementi che fanno vivere diciamo queste infrastrutture elemento molto molto importante che ho sentito anche prima è il territorio noi siamo partiti con il nostro piano di sviluppo cercando di capire dove ci trovassimo e soprattutto sapendo quali sono le caratteristiche i punti di forza i punti di debolezza del nostro territorio oggi Fiumicino giace su una riserva naturale una parte una riserva naturale ma pensate che giace anche su quelli che sono i vecchi porti imperiali di Roma quindi c'è una parte dell'aeroporto proprio che avrete modo di vedere che ha degli affioramenti archeologici che sono proprio il molo del porto di Claudio di Traiano che erano appunto il nodo intermodale del passato con questo principio e con le frammentazioni che ci sono all'interno di un territorio diciamo fragile ma allo stesso tempo che appunto presenta questa opportunità siamo andati a capire che come l'aeroporto potesse fare da collante a queste e soprattutto come potesse generare valore non solo per l'aeroporto di per sé ma anche per il territorio che cosa abbiamo sostanzialmente siamo andati a capire tra le varie situazioni ovviamente anche le fragilità legate all'accessibilità perché ovviamente anche noi abbiamo un piano di sviluppo che traguarda al 2046 circa 88 milioni di passeggeri quindi il doppio di quello che abbiamo oggi e ci siamo fatti insomma tantissime domande per cercare di portare i passeggeri appunto all'aeroporto ma non solo i passeggeri ma anche gli utenti pensate che la comunità aeroportuale di Fiumicino oggi vede circa 40 mila persone al giorno con un indotto sentivo prima i numeri che più o meno mi tornano perché poi sono tutti fattori moltiplicativi alla fine arriviamo a circa 180 mila persone l'aeroporto genera tantissimo tantissimo lavoro per tutto quanto quello che è il litorale romano e quello che è diciamo anche la stessa Roma in qualche modo e ovviamente anche qua sempre come driver di sviluppo siamo andati perciò a trovare il modo di capire come la nostra come potessimo in qualche modo far accedere i passeggeri all'aeroporto cercando anche di soddisfare le esigenze del litorale e quindi siamo andati a studiarci attraverso dei monitoraggi continui degli studi continui tutto quello che era l'accessibilità e la mobilità degli schiali andando a fare con attraverso delle partnership che poi vi dirò una serie di azioni il nostro piano di sviluppo oggi prevede circa 8 miliardi di investimenti che ovviamente sono legati a dei key performance indicator della sostenibilità perché per poterlo attuare ci siamo rivolti alla finanza sostenibile quindi abbiamo fatto un'emissione di green bond nel 2020 e di sustainable linked bond nell'anno successivo che ci aiuta sostanzialmente a misurarci rispetto ai key performance indicator legati alle emissioni di CO2 che ogni anno dobbiamo consuntivare rendicontare per far sì appunto di poter collocare e avere appunto la finanza per poter fare questo piano per poter realizzare il nostro piano investimenti poi ci siamo chiesti ma ci sono dei partner nazionali dei player di rilievo ai quali ci possiamo rivolgere per poter arrivare a questo obiettivo di sostenibilità che per noi è avere net zero carbon al 2030 quindi con 20 anni di anticipo rispetto alle altre realtà di settore assolutamente sì e abbiamo instaurato una serie di partnership parliamo di ENI per quanto riguarda le partnership sul sustainable aviation pool che ho sentito nominare chiaramente dall'aeroporto di Trieste e che abbatte sostanzialmente le emissioni e ospitiamo che sia diffuso ovviamente il più possibile come diceva Bergamo ovviamente noi forniamo i servizi e quindi cercheremo ci sarà qualcuno che poi dovrà agevolare l'utilizzo di questi sustainable aviation fuel ad oggi abbiamo due voli giornalieri anche con la collaborazione con ITA Roma-Venezia e Roma-Barcellona che utilizzano questo tipo di carburante speriamo che sia ancora più diffuso poi abbiamo una partnership con Enel Enel X in particolare dove anche lì abbiamo sostanzialmente stiamo progettando un sistema pioneer di storage delle batterie derivanti dall'automotive che ci consente di accumulare energia collegarla a due solar farm che dobbiamo fare da circa 30 megawatt ciascuno accanto alle piste cosa che qualche anno fa era impensabile dal punto di vista anche normativo e che in qualche modo aiuta a raggiungere diciamo una sorta di autosufficienza energetica per arrivare appunto a questo obiettivo delle emissioni zero al 2030 oltre vi cito queste partnership perché per noi sono veramente importanti perché aver legato le eccellenze italiane da questo punto di vista con noi ci ha portato veramente molto valore anche con Leonardo abbiamo una partecipazione interessante che riguarda la cyber security sapete appunto con la guerra in Ucraina abbiamo avuto diversi problemi attacchi eccetera avete sentito quello che è successo in varie aziende e anche lì ci stiamo sostanzialmente supportando e in un certo qual modo con Leonardo stiamo anche andando avanti con quella che è la Urban Air Mobility che forse ne avete sentito parlare che stiamo vedendo anche con il gruppo SAVE dove sostanzialmente stiamo investendo sulla nuova forma di mobilità che è quella dei taxi droni su Fiumicino e sul appunto sul trasporto da Fiumicino alla città e che nei prossimi anni ci vedrà sempre più protagonisti anche con una partnership con Volocopter che è un'azienda tedesca che ha uno dei primi droni taxi droni certificati che li sta certificando ultima ma non meno importante è la partnership con FS con il gruppo Ferrovie dello Stato ho sentito parlare di intermodalità l'intermodalità è un pilastro della sostenibilità ormai non si può più ragionare pensando che l'aeroporto è fine a se stesso ci si arriva con la macchina e basta e finisce lì con gli autobus al massimo e basta è la piattaforma intermodale per eccellenza perché sostanzialmente in sé ha tutte le forme di mobilità e tutte le forme di scambio e sostanzialmente è l'intermodalità nella sua accezione più ampia noi la vediamo in diverse accezioni l'accezione infrastrutturale quindi abbiamo stiamo portando avanti con FS dei progetti di sviluppo dell'accessibilità con il raddoppio della stazione ferroviaria da 3 a 5 binari perché per poter arrivare a quel net zero carbon 2030 abbiamo bisogno di raddoppiare i passeggeri che oggi vengono in aeroporto con il treno e gli utenti perché non parliamo solo di passeggeri ma parliamo anche di utenti quindi di utenti aeroportuali me i miei colleghi che sostanzialmente siamo sempre 40.000 che si spostano ogni giorno più l'indotto quindi è veramente una città di media dimensione quindi noi aspichiamo e cerchiamo di andare avanti con le ferrovie con Anas attraverso una rete di trasporto a basso impatto che abbia anche l'aspetto dell'innovazione al suo interno quindi parliamo anche di intermodalità commerciale di customer journey una customer un'esperienza del passeggero che deve partire dalla stazione Termini piuttosto che da Napoli piuttosto che da Firenze con un treno arrivare a Fiumicino e avere già tutte le peculiarità del viaggio da Napoli fino a New York cioè alla fine del viaggio quindi è un'esperienza che cerchiamo di stiamo costruendo con il gruppo FS per fare in modo che insomma anche quei collegamenti che oggi sono sotto le due ore e mezza di cui forse avete sentito parlare che la comunità europea in qualche modo ha dato insomma un'indicazione che se è possibile i collegamenti sotto le due ore e mezza è meglio farli con l'alta velocità ovviamente su questa parte ci stiamo lavorando ultimo ultimo elemento noi abbiamo tra i nostri pilastri abbiamo appunto la sostenibilità la qualità sulla quale non mi soffermo perché insomma abbiamo avuto per cinque anni consecutivi l'Airport Service Quality piuttosto che sono diversi premi ma ripeto questo è frutto di sostanzialmente di un lavoro fatto molto in maniera molto certosina ognuno di noi ha nel proprio interno mira sostanzialmente all'eccellenza faccio un esempio banale voglio fare giusto per poi mi taccio perché forse sto andando un po' lungo però un esempio che mi piace fare noi quando vediamo una mattonella all'interno dell'aeroporto che ha una cricca o un'inclinatura ognuno di noi tutti qua ma tutti i dipendenti aeroportuali si fermano guardano e chiamano e dicono questa mattonella è assolutamente da sostituire lo farebbe non è detto che lo facciano tutti ma il principio qual è che noi sentiamo l'aeroporto talmente come è casa nostra che se vediamo una mattonella che è rotta ci sentiamo come se fosse del nostro bagno insomma tanto per fare un esempio molto diciamo vero l'ultima cosa riguarda ripeto un altro pilastro è l'innovazione adesso al terminal 1 a breve apriremo un innovation incubator un incubatore di start up abbiamo fatto una call for ideas che è appunto una gara utilizzando un termine un po' più ampio dove sostanzialmente abbiamo messo a gara una diciamo delle partnership per avere sostanzialmente una la possibilità di studiare insieme a delle start up il miglioramento dei processi aeroportuali e portarli sostanzialmente a processi di automazione processi green processi di seamless quindi senza appunto l'utilizzo di elementi o di oggetti ma avere esperienze diciamo sempre più innovative e studiarle con queste start up all'interno di questo innovation incubator che è sostanzialmente uno spazio di 600 metri quadri dove all'interno lavoreremo con questo hanno risposto in 93 start up e lavoreremo appunto con questi progetti all'interno di questo spazio di co-working ci sono tantissime cosa dire mi fermo perché sono qua grazie no effettivamente io amo molto l'aeroporto di Fiumicino per una ragione che se non so se vi è capitato di stare all'aeroporto Charles de Gaulle a Itro a Itro per esempio c'è stato un molo molto bello il molo 5 ma spostarsi da un terminal all'altro Fiumicino invece è raccolto questo fatto della ricostruire gli ambienti io lo trovo molto positivo avevo dimenticato di commentare un aspetto di quello che aveva detto Emilio precedentemente la politica di gestione del personale di Bergamo ma degli altri aeroporti italiani è diventato un fattore competitivo europeo oggi andare a Schiphol è una tragedia si fanno delle file sterminate perché questi hanno dovuto licenziare molti dipendenti adesso non riescono a ritrovarli e questi aeroporti non stanno funzionando c'è una cosa che ci tengo a dire perché i ragazzi sentono e anche il pubblico guardate che è una cosa molto complessa assumere una persona una persona che si occupa di controllo di sicurezza del bagaglio ha bisogno di formazione verifica da parte del ministero degli interni una prova sul campo un giuramento in prefettura e l'emissione di un decreto cioè non è che una persona che si occupa di controllare il vostro bagaglio che noi pensiamo sia una figura di professionalità banale la acquisisci a parte trovarla oggi come oggi non si trovano più ma anche nel momento in cui li trovi il percorso formativo è di lunghissima messa a terra con la crisi che c'è in questo momento e la ripresa che chi ha vissuto le altre crisi doveva prevedere e doveva pianificare è stato un disastro per un gestore aeroportuale come Schipol chiedere di cancellare i voli una compagnia aerea credo che sia io dico sempre io do le dimissioni piuttosto provate a immaginarvi una compagnia aerea che ha sue problematiche immediatamente sposta al faro e dice io li ho cancellati per colpa tua adesso mi paghi danni i negozi degli aeroporti i passeggeri è una situazione che come sempre mancando la pianificazione come spesso manca ci ha portato a questi risultati e poi come dire in Italia siamo fortunati c'è l'istituto dal caso di integrazione e c'è un'attenzione importante verso le persone che non si possono perdere gente che lavora da anni era assurdo perdersene grazie per questa precisazione è una cosa molto importante SAVE è un gruppo aeroportuale 5 aeroporti provo a elencarli se non sbaglio Venezia è più importante Treviso Verona Chiari e Charleroi quindi ha una proiezione internazionale importante un aeroporto importante credo anche un progetto di allargarsi ulteriormente oltre confine e Davide Bassano è il direttore ambiente e sostenibilità del gruppo quindi lui ci può dare una chiave diciamo anche di sinergie anche di diffusione delle best practice e oltre avendo gestendo un aeroporto che è specializzato nel cargo come è quello di Chiari ci può dare anche un insight su quello sulle tematiche e le problematiche più della logistica della logistica merci Sì allora come anticipava Marco la società è un gruppo sono 5 aeroporti 4 sul territorio nazionale principalmente basati nell'area nord-est del paese e Charleroi che è il secondo aeroporto in Belgio 8 milioni di passeggeri le acquisizioni dei vari gestori e la distribuzione sul territorio ci ha permesso di lavorare in termini aeroportuali come sistema come network e ogni sito aeroportuale ha individuato e sviluppato la sua specializzazione quindi c'è Venezia che è lo scalo di riferimento il terzo gate intercontinentale del paese con l'affaccio sulla laguna insomma basta andare su Google Maps e guardare dove si trova c'è Treviso vicino tutte le principali compagnie che lavorano sullo scalo di bandiera e intercontinentali atterrano e partono da Venezia aeroporto che consente a milioni di viaggiatori di vedere la città storica un esempio mirabile appunto che si affaccia sulla laguna Treviso è l'aeroporto low cost del gruppo gestisce principalmente un traffico operato da Ryanair e da Wiser è a 30 km da Venezia quindi moltissimi viaggiatori lo usano anche come scalo di fatto comunque arrivare a Venezia spendendo meno fondamentalmente quindi sfruttando evidentemente policy commerciali che i vettori low cost propongono per ora uno scalo principalmente charter in una posizione strategica perché è un crocevia di comunicazioni verso est verso ovest nord e sud vicinissimo anche a un'area industriale di connessione intermodale per merci importante e è sicuramente in una posizione che offre moltissimo interesse il Garda a Verona e molte altre località interesse come dire ludico culturale e di svago e poi c'è Brescia che ricordava Marco Brescia è la parte cargo del gruppo è l'aeroporto di Montichiari e lì abbiamo deciso di sviluppare il cargo in realtà c'è cargo anche a Venezia solo che non è cargo quello che chiamiamo il cargo ma è il cargo e sono le merci che vanno nelle pance degli aeromobili che trasportano passeggeri quindi per dare come dire una possibilità al gruppo di sviluppare anche traffico cargo Brescia che è un aeroporto che ha delle condizioni ambientali favorevoli e qui il gancio con la sostenibilità perché l'aeroporto cargo lavora di notte e quindi gli aeroplani cosa fanno? Caricano durante il giorno di notte partono arrivano agli aeroporti di destinazione e di giorno distribuiscono le merci quindi atterraggere i coli di notte fanno rumore disturbano e quindi l'aeroporto cargo deve essere in un posto che ha delle caratteristiche intorno all'aeroporto e del territorio che consentano di fare questa attività l'aeroporto di Montichiari ha queste caratteristiche in mezzo al nulla di fatto ha sicuramente delle facilità aeroportuali che hanno un respiro per poter essere sviluppato e quindi come gruppo sempre in questa sinergia e questo network di sfruttare e massimizzare le varie infrastrutture si è deciso come dire di sviluppare la parte cargo del gruppo lì questo sistema ecco tornando al tema della sostenibilità ci ha consentito anche in realtà di sfruttare le specializzazioni di singoli aeroporti quindi anziché allargare quindi consumare suolo metri quadri volumi cemento di razionalizzare sfruttando al massimo quelle che sono le possibilità che gli aeroporti che già esistono e funzionano consentono di dare con le specializzazioni che vi dicevo qualche considerazione personale perché vedo che il tempo corre e che volevo in parte condividere insomma sono tutti giovani quelli qui quindi è giusto anche parlare degli aeroporti e della sostenibilità in termini più generali le cose che i colleghi prima di me hanno citato le facciamo anche noi il recupero dell'acqua pannelli fotovoltaici il recupero dei rifiuti sono tutte prassi ormai standard che gli aeroporti da tempo fanno perché gli aeroporti disturbano fanno rumore e questo lo fanno da quando esistono quindi come dire il tema ambientale per contenere limitare e diminuire quelli che sono gli aspetti ambientali negativi lo fanno da molto tempo perché altrimenti non esisterebbero il tema del rumore della fine degli anni 90 i primi anni 2000 su Malpensa e tutto il quadro normativo che è uscito sul rumore e il continuo combattimento che peraltro io stesso faccio anche contro i comitati anti-aeroporto per via del rumore sono attività che portano i gestori aeroportuali a riflettere a essere sensibili sui temi ambientali ma questo da tempo non da quando si parla di sostenibilità quindi adesso parlando di Venezia mi viene in mente parlando con voi Venezia è un'area tra le più tutelate del paese di fronte alla laguna di Venezia esiste un vincolo archeologico tutela paesaggistica e in fregio alla laguna addirittura la commissione di salvaguardia che esiste da secoli è deputata ad autorizzare i progetti sull'aeroporto quindi tutte queste condizioni portano i gestori aeroportuali non solo ovviamente quello di Venezia e del gruppo SAVE ma anche quelli degli altri aeroporti a confrontarsi con questi temi quindi è nelle corde degli aeroporti il tema della sostenibilità io spesso con i miei figli ho discussioni infinite ogni volta che partecipano a un Friday for Future perché dicono tu che lavori in aeroporti inquini tu sei il male noi moriremo tutti per colpa tua perché gli aeroporti inquinano allora in parte è vero inutile negarlo sicuramente gli aeroporti sono un elemento di disturbo di fastidio soprattutto dal punto di vista acustico dal punto di vista emissiego come ricordava Emilio Bellingardi di Bergamo forse non è proprio così perché le tonnellate di CO2 che vengono ascritte al trasporto aereo sono di qualche punto percentuale rispetto a quelle che altre forme di trasporto o altri comparti industriali emettono indubbiamente però ognuno deve fare la sua parte e quindi con i miei figli che sono tre discussioni quindi sono anche in minoranza tra le altre cose discussioni infinite su questa cosa gli aeroporti sono però e lo sono sempre stati dei nodi di comunicazione fondamentali per le persone per le merci consentono di raggiungere luoghi lontanissimi di far arrivare in luoghi nei nostri territori da paesi lontani io parlo di Venezia arrivano viaggiatori dalla Nuova Zelanda dalla Corea dal Giappone dal Nord America dal Canada ogni anno ed è una cosa positiva questa per vedere Venezia la città i territori circostanti così come a Fiumicino per quanto riguarda Roma così a Bergamo e così via qui la vera sfida per gli aeroporti e la sostenibilità non è negare l'esistenza degli aeroporti perché gli aeroporti sono una cosa buona mettono in comunicazione le persone scambio di idee di vedersi vedere posti conoscere luoghi diversi poi che siete giovani lo fate il vero tema qui è far funzionare gli aeroporti in modo che tutti questi elementi ambientali di disturbo siano il più limitati e il più contenuti possibile questo è il cruccio che almeno io che mi occupo di questo per il gruppo ma credo anche i colleghi ogni mattina ci poniamo alcune cose vengono fatte e sono fatte e credo anche che rispetto ad altri contesti industriali e di altro tipo gli aeroporti forse siano anche un po' più avanti rispetto ad altre situazioni per quello che vi dicevo prima perché la storia per gestire questi elementi e questi fattori esogeni ambientali parte da più indietro ci sono altri temi sicuramente come quello dell'energia che sono un po' più complicati da risolvere peraltro non sono limitati al solo aeroporto non preponderati considerate che in termini emissivi un aeroporto emette 10-12% del bilancio carbonico emissivo del sedimento aeroportuale l'87-85% sono della parte aeronautica gli aeroplani come ricordava prima Giordano di ADR anche noi abbiamo un gruppo di lavoro con Airbus e con SNAM su cui stiamo lavorando da mesi e che ha avviato proprio Airbus questo è interessante perché perché Airbus cosa fa arriva negli aeroporti e dice ok io adesso cosa faccio oggi Airbus si rifornisce con diesel getta uno domani se vuole diminuire le emissioni le sue emissioni deve trovare combustibili non fossili e quindi il tema dell'idrogeno e quindi Airbus quando atterriva in un aeroporto cosa fa si aspetta che l'aeroplano venga rifornito con dell'idrogeno e quindi ci stiamo spaccando la testa per capire come dentro all'aeroporto far trovare l'idrogeno che agli aerei Airbus ma anche a Boeing che alle altre compagnie gli consenta di fornirsi e ripartire per portare i viaggiatori a zero emissioni verso nove destinazioni questo tema è abbastanza complicato perché l'idrogeno è senz'altro una forma di energia di combustibile molto interessante richiede molta energia perché spaccare la molecola dell'acqua richiede molta energia il legame dell'acqua è uno dei più stabili che c'è e quindi oggi si è nella condizione paradossale di utilizzare energia per produrre idrogeno a un livello di efficienza bassissimo e non particolarmente produttivo e spesso utilizzando combustibili fossili quindi un paradosso da questo punto di vista ci vuole del tempo non è un percorso facile ci sono dei vincoli anche tecnici tecnologici che credo insomma ingegneri io sono ingegnere quindi mi appassiona anche questo tema riusciremo a risolvere come è stato fatto in molti altri casi però indubbiamente quello della transizione energetica rispetto ad altri temi per quanto riguarda gli aeroporti è in questo momento di grande cambiamento uno insomma dei temi forse più importanti e nodali e fondamentali mi veniva in mente che con tutti gli spazi che c'hanno gli aeroporti potrebbero utilizzare quegli spazi per produrre l'energia pulita per fare l'iglogeno green diciamo ma questo si vedrà nel tempo scusa Davide volevo chiederti una cosa siamo veramente agli ultimissimi minuti tu come responsabile della gestione ambiente del gruppo SAVE probabilmente sei la persona che interloquisce con la comunità che tipo di chi sono i tuoi interlocutori che tipo di relazioni ci sono con le associazioni non lo so chi sono e come riuscite a parlarvi diciamo allora sì sono proprio io personalmente incontro allora le interlocuzioni col territorio avvengono su due piani fondamentalmente ci sono interlocuzioni con enti istituzionali sono gli enti con cui approviamo i progetti li illustriamo li discutiamo li miglioriamo grazie anche al loro contributo e queste interlocuzioni sono su principalmente temi tecnici a Venezia ne abbiamo moltissimi parlo di Venezia perché forse il caso più complicato dei diversi aeroporti soprintendenza paesaggio verde consorzio di bonifica per quanto riguarda la sicurezza idraulica abbiamo di tutto di più devo dire sono sempre molto buoni collaborativi da parte degli enti e delle amministrazioni l'aeroporto è una risorsa è un asset quindi ha interesse perché lavori bene e si sviluppi e funzioni bene poi c'è l'altra parte quella un po' più diciamo colorita no? che è quella con i comitati cittadini anti-aeroporto discussioni sempre molto accese anche combattute e devo dire che sono molto interessanti a volte sono anche provocatorie spesso dall'altra parte ci sono anche persone insomma che hanno intenzione di guadagnare visibilità però devo dirvi che il confronto con questa parte del territorio sempre piuttosto acceso Marco qui insomma anche con riunioni abbastanza e andiamo noi a trovarli spesso ci rendiamo disponibili per raccontargli l'aeroporto e sentire cosa hanno da dire loro spesso contro l'aeroporto però insomma è sempre interessante ascoltare il territorio su cui l'aeroporto insiste ci ricorda che come dire siamo al servizio del territorio al territorio restituiamo anche delle cose facciamo interventi riqualifica di case asili boschi prati stagi in aeroporto facciamo visitare le scuole in aeroporto e cerchiamo di spiegare come funziona l'aeroporto peraltro devo dire che gran parte delle persone che lavorano in aeroporto e anche abitano nei territori limitrofi e circostanti lo apprezzano insomma è un sistema complesso da lavoro consente di ricevere viaggiatori di scambiare idee di comunicare quindi al di là di quella che è l'iniziale come dire l'illuttanza e contrasto se si ha la pazienza di superare questo momento di solito la partecipazione e la condivisione con questi comitati spontaneamente costituiti è sempre molto utile e interessante molto bene una cosa importante questa di poter ascoltare eccetera abbiamo sentito delle esperienze interessantissime secondo me credo che ne usciamo con più informati sulle problematiche anche sulle soluzioni che sono veste in corso purtroppo non abbiamo il tempo per le domande però io volevo ringraziare voi per averci ascoltato e naturalmente Emilio Marco Andrea e Davide per essere stati con noi e aver condiviso con noi le loro competenze e le loro esperienze grazie a tutti grazie una cosa che mi veniva in mente ma la cosa che ci ha fatto è la cosa che ci ha fatto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti